Io penso che senza timore di smentita si possa dire che in questo anno e mezzo questo governo ha prodotto molto di più in termini di provvedimenti e risultati di quanto i governi messi insieme con lo scotch della sinistra facevano in intere legislature. Sono fatti, non sono opinioni, sono fatti perché chiaramente c'è tanto lavoro da fare, ancora moltissimo lavoro da fare, ma molto è stato fatto in questo anno e mezzo e alcuni dati lo raccontano, lo raccontano ad esempio i dati sull'occupazione perché in Italia nell'ultimo anno noi abbiamo avuto il record occupazionale, il record di contratti stabili, il record di lavoro femminile, lo abbiamo costruito con provvedimenti, con strumenti che davano un segnale importante alle nostre aziende e ai nostri lavoratori e cioè che il governo era al loro fianco, che non avremmo disturbato chi voleva creare ricchezza e quel messaggio è arrivato.